beh ieri devo rifare questo video perché è venuto male su youtube ieri stavo sentendo questo si parlava di antisemitismo e siccome c'era questo essere qua che dicevo io non trovo non riesco a trovare aggettivi per descrivere questa roba qua e pensavo ma come cazzo è possibile cioè vedere quanto il sistema cioè youtube per dire ci censura se parliamo di questi e questi vomitevoli esseri che parlano sempre di questi e basta no eccetera eccetera ma è possibile che la prega ora dico non capisce che è tutto un trucco questo cioè che questi qua vengono usati e anzi sono stati usati da sempre da dal rettile cioè da quelli in alto come una specie di pupazzo che mettono davanti alle pecore e come si dice no capro espiatorio e da mettere davanti alle pecore e le pecore stanno calme no ecco è colpa loro quindi ok perché ovviamente hanno fatto in modo che questa gente si salga anche in alto e in punti però non sono loro che controllano perché chi li fa salire in alto è un altro qua è un altro qua pecore è questo qua pecore è un rettilino qua pecore che li fa salire là e li usa come dei pupazzi da mettere davanti alla pecore per dire alla pecore pecore non ti preoccupare non è colpa tua e ricordiamoci che questi qua che secondo voi comanderebbero il mondo questi qua ho messo a posto un 3 è un 3 qua un 33 perché sono controllati dall'alto ovviamente e ricordiamo che questi qua sono pochi in numero rispetto alla maggioranza di noi i grandi onorevolissimi e bellissimi e buonissimi e pecore gente buona brava con valori eccetera ecco chi è che sorregge la merda è un'altra pota merda qua sotto ecco queste qua sono le pecore anzi 3 volte p che poi se lo vai a p a così e lo vai a girare e se io riuscissi anche a riflettere questo sarebbe un 666 per questo li chiamo pecore con la p con la dura ma ci sono le pecore e quindi però ovvio se tu hai la pecore infatti oltre alla tv insomma anche molti truthers no aspetta mettiamo mettiamo giù truthers cioè quelli che vanno contro corrente no truthers oppure con contro info quelli che fanno contro informazione no che vanno contro alla corrente diciamo fanno il loro gioco perché loro vogliono loro vogliono questi qua in alto vogliono che noi ce la prendiamo con questi qua perché a quel punto la pecora continua a lavorare per il rettile non capendo che è la pecore il problema sono le pecore che prendono questi qua ti danno solo l'ordine senti devi andare a lavorare adesso e devi inculare inoculare scusa inculare i tuoi singli ok questo ha dato solo un'idea è passato per la mente un'idea un po così folle però sono le pecore di merda che inforzano chi è che mi ha messo la multa perché andava a fare la spesa a me e mi hanno bloccato diverse volte durante il lockdown le pecore da merda le pecore da merda sempre in divisa come in divisa anche questi qua però divisa bianca diciamo ammazzavano le pecore ok quindi invece di prendersela inutilmente come diceva bill cooper se vuoi vedere dove sta il problema guardati allo specchio pegola da merda sei tu il problema solo che loro ci hanno messo in testa che se una persona è stronza e cattiva però fa parte della tua stessa nazionalità per dire ah non la puoi criticare poi se fa parte se c'è un legame così insomma di sangue diciamo in questa persona anche neanche in caso puoi parlare male di questa persona ah perché è il tuo stesso sangue stai scherzando non si fa ah ma che dici non lo puoi fare questa persona e infatti il problema è che se noi vedessimo il mondo sotto un altro cedessimo priorità no al fatto che ma questa pecore che mi hanno fermato durante il lockdown e mi hanno avvelenato eccetera era della mia stessa nazionalità quindi io non riesco a quel punto a apprendermela con loro oppure se magari sono i miei stessi familiari magari che lavorano con una casa farmaceutica eccetera eccetera comunque come ho detto tutti i lavori sono lavori che ha creato il rettile e se il rettile non vuole non ti dai soldini tu prendi soldini solo se fai un lavoro che serve al rettile ok e quindi l'unico modo infatti i cristiani dicono che cioè e anch'io a quel punto ci dico dovremmo dare priorità cioè io non distingo le persone per nazionalità ma se sono buone o meno se sono cristiane o meno ma cristiano ovviamente la maggior parte soprattutto è merda però ci sono alcuni che effettivamente dicono quello che fanno quello che c'è 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 scritto dice la bibbia per dire no quindi ecco se quelli se qualcuno ti offre dei soldi dei soldini per fare qualsiasi tipo di lavoro e tu lo fai per me tu puoi essere di questa della mia stessa nazionalità della mia stessa famiglia a me non mi frega niente tu sei un pezzo del merda che quindi questo e quindi il trucco che fa il rettile qua che ti copre tutto questo il male che tu fai e ti dice ma è colpa è colpa di questi qua è perfetto perché la pregola continua col punto a fare il male e neanche vederlo che fa il male da la colpa a questi qua ok nel caso delle pecore quelle senza cervello quelli questi nemmeno lo fanno perché se sente mieli qua gli dice che ha questi zombie qua in tv no no dicevo se mieli gli dice guarda quanto è buono guarda gli dice insomma non si fa non si parla male di questo e loro non lo fanno la maggior parte sono senza cervello non stanno nemmeno a quel livello però qui pochi che potenzialmente potrebbero fare qualcosa ecco che grazie ai loro mostri controllati cioè quindi contro informazioni che sono controllati gli indirizzano a parlare male di questi loro li azzittano subito come osi come non osi e comunque sia alla fine non cambia in cazzo perché chi è che manda avanti effettivamente le cose sono le pecore e quindi questi qua i ciutti qua che se la prendono con i cosiddetti nasoni sono funzionalissime al sistema perché tutti se la tutte le pecore anche quelle che magari sentono dice qualcosa non va e potrebbero fare qualcosa che fanno se la prendono con loro non vedendosi allo specchio che molti infatti di dei truthers cioè di quelli che si sentono contro questo no e continuano a lavorare per il sistema per il rettile continuano a tamponarsi magari continuano a fare le stesse cose che facevamo prima non capendo che sono loro stessi è per questo che il nemico è invincibile perché il nemico siamo noi capito ed è questa la genialità della testa il nemico ormai è nel nostro dna è dentro di noi e non lo puoi mai trovare siccome noi siamo stati programmati a trovarlo come un diverso fuori da noi ecco che ci viene dato dall'esterno dal rettile dai la colpa a lui e tu mentre lui intanto tu sei totalmente un rettile lavori per il rettile qua come il film no? infatti qualcuno mi diceva che cosa intendi per il rettile? questo intendo io per il rettile they live quando tu vedi il film no? che la gente quando mettevi gli occhiali no? che alcuni di questi erano mostri non tutti però ok? quando mettevi gli occhiali ecco quando qualcuno è stato infettato dal rettile per dire guarda questo qua questo voleva arrivare al lavoro no? voleva fare soldi alla promozione e diceva ma io me lo meritavo di più questo qua era un essere umano ancora diciamo e lui dice ma che sono cioè questi sono i rettili per me i rettili possono essere anche le pecore questo è un mostro che ormai è stato infettato per usare un termine che non andrebbe usato perché non ci si infetta dalle persone infettato dal rettile ed è diventato il rettile capito? guarda qua non tutti però alcuni erano rettili e questi ce li abbiamo anche in famiglia ce li abbiamo ovunque sono della nostra nazionalità e dobbiamo capire che se è della tua nazionalità non vuol di incazzo non è che va protetto la merda è ovunque è vicinissima a te ok? però siccome molti di voi che guardate i miei video siete diventati rettili siete dei mostri ovviamente cliccate dislike qua al video e andate a fanculo e tanto per voi non c'è speranza ok? continua a prendertela con il nasone con questi qua andrà tutto bene tu sei pulitissimo tu sei bellissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti